Degno di meraviglia è il numero pi greco, 3,141, le sue cifre seguenti sono ancora tutte iniziali, 5,9,2, perché non ha mai fine? Non si fa abbracciare 6,5,3,5 con lo sguardo, 8,9 con il calcolo, 7,9 con l'immaginazione e neppure 3,2,3,8 per scherzo o per paragone 4,6 con qualsiasi cosa, 2,6,4,3 al mondo. Il più lungo serpente terrestre dopo una dozzina di metri si interrompe, così pure, anche se un po' più tardi, fanno i serpenti delle favole, la fila delle cifre che compongono e il numero pi non si ferma al margine del foglio, riesce a proseguire sul tavolo, nell'aria, super il muro, il ramo, il nido, le nuvole, dritto nel cielo, per tutto il cielo, atmosferico e stratosferico. Oh, come è corta, quasi quanto quella di un topo, la coda della cometa, quanto è debole il raggio di una stella che si incurva nello spazio. Ed ecco invece 2,3,15,319, il mio numero di telefono, il tuo numero di camicia, l'anno 1973, sesto piano, numero di abitanti, 65 centesimi, giro dei fianchi, due dita, una sciarada e una cifra, in cui vola, vola e canta mio usignolo e si prega di mantenere la calma e così il cielo e la terra passeranno. Ma il pigreco no, quello no, lui sempre col suo bravo ancora cinque, un non qualsiasi otto, un non ultimo sette, stimolando, oh sì, stimolando la pigra eternità a durare. Grazie. 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 Grazie.